Lei fa accuse precise, circostanziate, ma dice di non avere paura. E io quale accusa ho fatto? Io mi sono riferito soltanto all'evidenza dei fatti, alla realtà così com'è, nel mondo effettuale, se è circostanziata, se può essere declinata la mia narrazione come accusa, ma posso tranquillamente sottoscrivere. Paura? Non lo so. Per adesso non ce l'ho la paura, me la vorrei dare, come dice Don Abbondio, il coraggio uno se non ce l'ha non se lo può dare. E io la paura per adesso non ce l'ho, non ce l'ho e non me la posso dare? Probabilmente. Non lo so, io la paura non ce l'ho. Io devo fare il mio lavoro professionalmente, seriamente, con responsabilità. Responsabilità deriva da rispondere, cioè rispondere significa ricollegarsi alla coscienza, alla propria coscienza. La mia coscienza mi impone di atteggiarmi in un determinato modo e rispettosamente, diligentemente, per rispetto alla mia coscienza, mi comporto in questo modo. Lei però fa un'analisi rispetto alla società civile, al mondo intellettuale, quello politico sindacale, oltre che la istituzione delle forze del nord. Sì, certo. Perché abbiamo rilevato che da parte di tutte le articolazioni della società vi è stata al riguardo, in questa vicenda, una disattenzione, un girarsi dall'altra parte che veramente fa pensare e fa indignare anche. E fa indignare perché dovremmo essere tutti uniti in questa battaglia di civiltà, di lotta per l'affermazione dei diritti e della giustizia. Lei chiede al prefetto di Vibo Valencia la scorta, la scorta per la signora Scarpulla, perché la signora Scarpulla è in pericolo imminente e attuale pericolo. Certo. La signora Scarpulla è in pericolo di vita e questo pericolo è imminente ed attuale. Visto e considerato che il prefetto, non voglio polemizzare, io lo rispetto, ho un grande rispetto per il prefetto, il prefetto ha dato quella risposta con quelle parole, allora il ministro si faccia carico di questa incombenza e la scorta, la metta subito la signora, perché da un momento all'altro la signora è in pericolo di vita. Lo vogliono capire? Se non lo vogliono capire faremo un altro funerale.